Il presidente americano Joe Biden si è detto deluso per il fatto che il leader cinese Xi Jinping non sarà presente al G20 in India il 9 e 10 settembre, mentre Washington cerca di stabilizzare le relazioni con Pechino. Sono deluso ma lo vedrò, ha replicato i giornalisti Biden senza elaborare ulteriormente, mentre ripartiva dal Delaware. La portavoce del Ministero cinese degli affari esteri, Mao Ning, ha intanto confermato che sarà il premier Li Qiang a partecipare al G20 di Nuova Daily, voce già diffusa da un funzionario europeo giorni prima. I rapporti bilaterali tra Stati Uniti e Cina vivono un periodo non facile, dalla disputa sul futuro di Taiwan alle rivendicazioni cinesi nel mar cinese meridionale.